Noi vogliamo sempre vincere, prepariamo ogni partita per vincere e sappiamo che adesso mancano sette partite, dobbiamo pensare alla prossima. Tornando proprio su questa partita, un secondo tempo in cui le occasioni le avete vute, anche nei primi 45 minuti di gioco, è mancato sempre qualcosina. Ti chiedo che cosa è mancato? Ha mancato il gol, penso che sì, occasioni abbiamo avuto, la squadra non ha giocato male, però sì, sembra che manca qualcosa per vincere la partita, soprattutto con un po' di facilità. Grazie a tutti.